Il 5 marzo a Torino torna Just The Woman I Am, la decima edizione di questa bellissima manifestazione organizzata dal CUS di Torino, dall'Università degli Studi e dal Politecnico. Dieci anni di una manifestazione che tiene insieme la solidarietà, lo sport, l'amicizia e soprattutto la raccolta fondi a sostegno della ricerca contro il cancro. Il cancro ancora oggi è una delle malattie purtroppo più diffuse nelle nostre comunità e quando parliamo di tumore, quando parliamo di cancro purtroppo non abbiamo in mente una malattia, ma abbiamo in mente dei volti, dei nomi, delle persone amiche, perché ognuno di noi purtroppo nella sua vita ha conosciuto questa disgrazia. Just The Woman I Am ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza per la raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica, ricerca scientifica che sul territorio della città metropolitana di Torino ha delle grandi eccellenze nazionali e internazionali. È una manifestazione che negli scorsi anni ha visto lo stop a causa della pandemia, ma che ha saputo reinventarsi con tante iniziative sul territorio di città metropolitana. Iniziative che anche quest'anno saranno riproposte dagli organizzatori, che hanno un obiettivo, portare in piazza il 5 marzo 30.000 persone per dire basta al cancro, per dire sì alla ricerca scientifica. Io sarò tra queste 30.000 persone insieme agli assessori e insieme ai consiglieri di città metropolitana per sostenere appunto la ricerca scientifica e ancora una volta per portare un aiuto concreto al mondo della scienza che ha bisogno della solidarietà dei cittadini e dall'unità delle istituzioni per il sostegno alla ricerca.